Certo, lo sciroppo d'agave è ricco di fruttosio, chiaramente bisogna fare il distinguo sui singoli dolcificanti liquidi, lo sciroppo d'agave è stra ricco di fruttosio, il fruttosio è stato anche correlato a un aumento del rischio di diabete, per cui chiaramente bisogna stare attenti, anche perché se non ricordate male all'inizio proprio ai diabetici si diceva di prendere il fruttosio in polvere e chiaramente tutte queste cose sono state poi demistificate dagli ultimi progressi della scienza, così come il miele che è stra ricco di fruttosio.